Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Palward e in questo video andremo a vedere come recuperare le armi leggendarie non solo le armi ma anche l'armatura, insomma ci saranno se non ricordo male circa 17 progetti leggendari che possiamo andare a recuperare quindi arriveranno una serie di video che vi mostreranno come recuperare ogni singolo schema in maniera tale da facilitarvi il tutto e andare appunto a recuperare magari gli unici schemi che vi mancano senza assorbirvi un video inutilmente lungo detto questo per prima cosa quando siamo nel menu clicchiamo su inizia a giocare vi consiglio vivamente di cliccare su ovviamente il vostro salvataggio e andare su cambia le impostazioni del mondo una volta cliccato andiamo su impostazioni personalizzate e andiamo a personalizzarle appunto per facilitarci il tutto perché questi progetti potranno essere recuperati solo ed esclusivamente da determinati boss e la percentuale di drop rate è veramente bassissima per cui dobbiamo andare a facilitarci la possibilità di aumentare questo drop rate e ottenere appunto il progetto che ci serve se non volete farlo non fatelo io ve lo consiglio vivamente a meno che non abbiate come unica vita quella di giocare a palward per prima cosa vi consiglio di andare a modificare il guadagno dei punti esperienza se avete poco tempo per andare a raggiungere magari il livello 50 quanto prima potete anche non farlo ma vi torna veramente tanto tanto utile non serve per questo video ma ve lo consiglio proprio appassionatamente andate ad aumentare il tasso di apparizione pal perché ne avrete assolutamente bisogno in maniera tale che quando andremo ad affrontare questi determinati boss che ci droppano appunto questi progetti leggendari noi abbiamo la possibilità di affrontarne tre alla volta per cui questo aumentatelo questo è l'unica cosa che vi consiglio di aumentare appunto per aumentare la possibilità di drop rate di questi progetti leggendari eventualmente dal momento che questi boss spawnano una volta al giorno e per giorno intendo la giornata in game potete anche pensare di andare a diminuire la durata del giorno e della notte così da velocizzare il tutto io non lo farò perché comunque ci sono tantissime altre cose da fare e non dura alla fine tantissimo nel giorno o nella notte per cui non lo farò ma se volete potete andare anche a toccare questo parametro qui così da velocizzare il tutto detto questo possiamo entrare nel nostro mondo e vi mostrerò come andare a recuperare progetto leggendario una volta entrati nel mondo di gioco ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella, commentare, condividere, lasciare like perché i giovani arriveranno tutti gli altri schemi leggendari dove recuperarli, come recuperarli per cui non perdetevi le prossime uscite iscrivetevi e attivate la campanella detto questo andiamo a prendere la seconda arma leggendaria e sto parlando di questa qui della balestra leggendaria che fa veramente veramente un sacco di danni per andarla a craftare servirà della legna, della pietra, dell'ingotto di metallo dei chiodi e componente dell'antica civiltà quindi niente di così complicato in realtà ora per recuperare questo progetto dovremmo spostarci in questo punto qui territorio dei grandi spadaccini quindi questo è l'inizio del gioco pianura degli inizi un pochino sulla sinistra e un po' più su qui territorio dei grandi spadaccini ci spostiamo qui e andiamo da questa parte andando avanti da questa parte incontreremo un altro boss il boss in questione avrete capito perché si vedeva è Bushy io come al solito ho comunque aumentato il drop rate dei pal e ho aumentato la presenza dei pal così da avere più possibilità di drop del nostro schema l'ho già preso ma comunque vi mostro vedete ne ho tre e possiamo andare a farli fuori tranquillamente sono di livello 23 quindi gli faccio malissimo infatti vedete tiro fuori il mio piccolo jet dragon il mio cuccioletto vai cattivo 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 di cattiveria vai così vai così cattivissimo e li facciamo fuori tutti a tre io 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 uccido perfetto e ovviamente ci potrebbero droppare lo schema ora non è successo non so se ve lo possono droppare più di una volta fatto sta che quando li ho affrontati addirittura la prima volta in tre mi hanno droppato tre schemi leggendari quindi alla fine direi che insomma il gioco vale la candela nel senso che se aumentate nelle impostazioni del mondo quello che vi ho mostrato all'inizio e magari anche il drop di rilascio degli oggetti avete più possibilità di ottenere questi schemi leggendari la balestra in questione è questa l'abbiamo vista anche in azione fa veramente un sacco di danni e ne vale assolutissimamente la pena soprattutto nei primi livelli se ancora non avete sbloccato le armi da fuoco vi ricordo che nel prossimo video andremo a trovare un'altra arma leggendaria o un'armatura dipende chi me la droppa prima per cui giovani vi aspetto nel prossimo video grazie mille e alla prossima grazie mille e alla prossima